Scegli un giardino e assapora la vita. Restalta la guardia in provincia di Salerno per verificare il rispetto delle regole legate all'emergenza epidemiologica nella Movida. In particolare le forze dell'ordine, nella settimana appena trascorsa, operando in sinergia, si sono concentrati in un'azione di controllo per limitare gli assembramenti anche provocati dalla consumazione di cibi e bevande all'aperto, al fine di garantire il rispetto del distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali. Nel corso di tale attività, gli operatori a Salerno hanno svolto anche controlli finalizzati ad arginare il commercio ambulante abusivo sul lungomare Trieste. Particolare attenzione è stata rivolta inoltre al controllo degli esercizi pubblici e degli apparecchi automatici del capoluogo, per evitare il consumo di alcolici, oltre l'orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori. Nello specifico, stando ai dati resi noti nella giornata di domenica 25 luglio, sono state controllate 7.000 persone, 4.128 veicoli e 1.144 esercizi pubblici. Sono state invece sanzionate due persone per violazione della quarantena e tre titolari di esercizi pubblici per aver violato il divieto di somministrazione, oltre l'orario consentito. Segnalazioni di assembramenti, inoltre, hanno portato i carabinieri della stazione di Salerno-Mercatello ad elevare una sanzione al titolare di un noto locale del litorale del capoluogo. È stata acquisita infatti evidenza di una serata affollata all'interno del locale, con balli e mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. La vicenda è ora all'attenzione della prefettura, per le eventuali decisioni relative alla chiusura del locale.